e io pensavo che ero stava pensavo perché avevi sbagliato linea e te l'avevo detto ok papi oh spegna ecco la spengo per caso è che la benzina non è un problema ok domanda per i più curiosi cioè io baria tipologia serena cosa vuol dire fango pietra terra erba bagnata si vede anche della neve all'orizzonte dovremmo andare lassù e poi cercare una discesa per scendere che non sappiamo se c'è non esiste la dobbiamo inventare ma dovrebbe esserci dai però una vita che non ci andiamo quindi vediamo come messa perfetto e per chiuderà la kienti bike modo insolito di pedalare andate andate su voglio fare un po' di riprese la razzina che bello 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 vai 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 la razzina che bello che bello la razzina che bello la razzina che bello ho sentito tutto bene pulito Attenzione al tronco 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 Attenzione al trono Attenzione al tronco Attenzione al tronco fermate lì alla fonte qua sotto occhio giolli giolli vai giù alla fonte a fermarti c'è un pezzo di una casetta tipo c'è una casetta di pietra fermati lì com'è bello aspetta è guidato piano piano bravo vai vai bravo hai visto? che ti ho detto? no che è partita da lì da fermo grande grande buono e questa è quella stronza la giuro è difficile girare tanto difficile da che stile credibile che stile occhio questa ce la tagliarla qua guarda vai via 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 qua ce la tagliarla vedi la tagliarla tagliarla bene io buona questi guarda guarda che che miss 2 jolly e attenzione danilo occhio grande che stile rimane bene eccoci qua ieri è finita la batteria quindi non ho fatto il commento a caldo lo faccio stamattina tra l'altro fa un freddo cane quindi continuiamo a provare la e mazza è una gomma che mi sta piacendo molto molto sostenuta una bella carcassa bella tosta e anche sulle fasi di contropendenza ha un bel grip quindi penso proprio che andremo avanti a usarla e un giudizio così orientativo al momento secondo me come dicevo nell'altro video meglio della magic mer in scorrevolezza sicuramente forse anche meglio della minion nella parte magari di radici bagnate ho sentito un po più di bo di confidenza andiamo avanti a provarla comunque questa settimana dovremo uscire anche martedì quindi forse ci sarà un video in mezzo alla settimana ciao ciao a tutti